Venazio Tripodo venne da me a chiedermi di lasciare in pace Mario Itzi. Parola di pentito, parola del collaboratore di giustizia Augusto Latorre, uno dei testimoni chiave della pubblica accusa nel processo Damasco II, che ieri è stato escusso in videoconferenza dal carcere in cui è detenuto. La sua deposizione è iniziata con le domande del pubblico ministero Maria Cristina Palai, a volte a chiarire i suoi legami con la malavita organizzata campana e i rapporti di sua conoscenza tra i fratelli Tripodo e la famiglia Itzi. Assistito dall'avvocato Emiliano Vitelli, il pentito ha affermato che nel 1980, dopo la morte del padre, aveva preso il posto di quest'ultimo boss di Mondragone e che, negli ultimi anni successivi, fino al 1990, era entrato in cartello con i casalesi che gestivano le attività criminali anche nel Basso Lazio. Poi io uccisi Benedica, ha affermato Latorre, spiegando quindi la fine del sodalizio con il potentissimo clan. E in quanto i suoi rapporti con il Tripodo, ha detto di aver conosciuto di persona solo Venazio e di nome Carmelo. Il padre dei fratelli Tripodo era amico di mio padre, ha riferito, per sottolineare, che tra le due famiglie sussisteva, a suo dire, una conoscenza datata. Dunque, la questione Itzi. Latorre ha detto di essere stato lui il mandante del tentativo di estorsione e degli attentati dinamitardi ai danni dell'imprenditore Mario Itzi. Il pentito, ieri e a più riprese, ha affermato che nell'autunno del 1995 aveva deciso di estorcere del denaro a Itzi e per questo aveva organizzato l'assalto ai suoi camion. Una decisione tutt'altro che stemporanea. Per Latorre, questa iniziativa sarebbe scaturita da una sorta di regolamento dei conti a favore di suo zio Sorrentino, affiliato ai CDS di Itzi, in debito con gli imprenditori di fondi di mezzo miliardo delle vecchie lire. L'obiettivo finale sarebbe stato il seguente, 200 milioni, l'azzeramento del debito con Sorrentino e un pizzo annuo di 50 milioni di vecchie lire. A questo punto, secondo la ricostruzione del pentito, poi contestata dagli avvocati dei principali imputati, fratelli Tripodo e Aldo Trani, sarebbe entrato in gioco Venazio Tripodo. Mi disse di lasciare perdere Itzi, che Itzi era un uomo all'antica e che non avrebbe mai ceduto all'estorsione, ha riferito la Torre. E io gli risposi che se non avesse pagato, lo avrei ucciso. Ha poi dichiarato di aver ordinato degli attentati dinamitardi ai danni dello stesso Itzi nei depositi di fondi e Frosinone.